Buon pomeriggio da Estatio in Irpina con Info Irpina, tappa a Serino. Ecco il direttore artistico Vito Rago che si occupa di queste escursioni. Ciao Vito, dove ci troviamo in questo momento? Allora, stiamo facendo la risalita del fiume Sabato, effettivamente siamo sul sentiero Italia. Il sentiero Italia è praticamente un sentiero che parte da Caponordo e arriva fino a Capopassero in Sicilia, passando per l'Irpina in questo punto. Il comune di Serino, risalendo di qui arriviamo con la finestra che è praticamente lo spartiacqua tra il comune di Montella e di Serino. Queste qua sono le sorgenti del fiume Sabato e dall'altra parte abbiamo le sorgenti del fiume Calore. Quindi immagina che noi stiamo camminando su un cisterna d'acqua naturale impressionante. I vicentini danno acqua a tutto il napoletano, anche a zona del casertano e danno anche acqua insieme alla parte della Ceno, Cerviato, Caposele e anche l'acqua verso la Puglia, Santa Maria di Leuro. Ok, ci aggiorniamo per le prossime puntate. Ciao Vito, grazie.